Musica Dai Luisa ripensaci, senti mettiti tu vicino a questo che proprio non ci voglio stare, non vedi che è all'aria del cane imbastonato? Edda, ma veramente dopo due anni, soli due anni di matrimonio già volete divorziare, ma pensaci bene a me No, no, guarda, ho deciso, basta, non torno sui miei passi Vabbè, la vita è tua, che ti devo dire? Ma io me ne vado, eh Ti fai di tuo, ciao Ciao Antonio Ciao, ciao Guarda che io vado avanti nella causa di divorzio, hai capito? E vedrai che il giudice mi darà ragione e mi assegnerà 3 milioni per il sostentamento Buono, ma mentre da lui non te lo do chi, scusa Ehi, appahoi